Ben trovati amici di Padre Pio TV al nostro appuntamento settimanale con i diritti e la tutela. Come sempre in apertura il nostro Giuseppe Pracentino, presidente dell'Associazione Difesa Salute, per parlare di temi inerenti al diritto sanitario, ma anche su altre tematiche di diritto. È il caso che affronteremo quest'oggi nella seconda domanda che porremo al nostro amico avvocato riguarda gli usi civici, un altro argomento al di fuori del diritto sanitario, ma di sicuro interesse. Iniziamo però con la figura dell'amministratore di sostegno. Quali sono i suoi compiti, come è garantita questa figura nel nostro ordinamento. Ascoltiamo. Eccoci qui di nuovo con Padre Pio TV a parlare di argomenti di diritto sanitario e non solo. Frequentemente all'Associazione Difesa Salute giungono richieste di delucidazione in ordine alla figura dell'amministrazione di sostegno o dell'amministratore di sostegno. Io ho qua di fronte a me proprio un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per conto di un signore, un novantenne. Le figlie si sono rivolte alla mia associazione e sono venute qui a San Giovanni Rotondo per farmi presente questa situazione. Prima esistevano due figure che tutelavano una persona bisognosa di assistenza. Erano le figure del tutore e del curatore. Nel 2004 è stata introdotta questa figura dell'amministrazione di sostegno che è un terzium genus, cioè un terzo tipo. Mentre prima il tutore era la persona totalmente incapace di badare a se stessa e quindi era necessario in quel caso appunto che il tutore intervenisse annullando del tutto l'autonomia gestionale della persona del beneficiario e il curatore invece era una figura, diciamo, intermedia, adesso con l'amministrazione di sostegno si è modificata, adeguandosi a una direttiva comunitaria, il nostro ordinamento giuridico si è modificato adeguandosi ad una legislazione di stampo europeo. Infatti l'amministratore di sostegno è colui che dà appunto un sostegno a un beneficiario. Non viene annullata la sua capacità di gestire i propri affari, ma viene solamente affiancato da un soggetto che preferibilmente deve essere un parente, ma può essere anche un estraneo, oppure ad esempio i servizi sociali di un paese o di una città, che appunto deve aiutare questo soggetto nel gestire la sua quotidianità. Arrivando subito a dei concetti pratici, in questa proposta di nomina dinanzi al tribunale di residenza del beneficiario è stato indicato in maniera errata che è preferibile la nomina, adesso vado a leggere, i ricorrenti chiedono che questo tribunale provveda alla nomina dell'amministratore di sostegno incaricando all'uovo persona terza rispetto all'ambito familiare o in via subordinata hanno indicato un figlio. È il contrario. La nostra legge, quindi l'articolo 404 e seguenti del codice civile, così come novellato nel 2004, ha invece detto che bisogna privilegiare il menage familiare, e quindi scegliere all'interno della famiglia. Detto questo, un altro errore che ho notato in questo ricorso è che il collega dice a norma degli articoli 407 e codice civile si indicano i seguenti parenti. Non solo ha indicato i figli, si tratta di cinque figli, tre femmine e due uomini, ma ha indicato anche i nipoti, i genero e i coniugi, e ovviamente i coniugi, le nuore. Ed è sbagliato, perché il riferimento in questo ricorso deve essere solo ai parenti e non agli affini. Quindi i parenti stretti sono tutti vivi, sono i figli o eventualmente la moglie. Nel caso specifico la moglie non c'è. Ora, come dobbiamo muoverci? Qui si parla di questioni di carattere patrimoniale in questo ricorso. E devo dire una cosa, penso che purtroppo è frequente, spesso, come dire, da vivi non si curano i propri cari, quando purtroppo arrivano i problemi dell'anzianità, diciamo così, e bisogna stare vicino a loro, e si avvicina anche con la vecchiaia la migliore gioventù, finisce, quindi si pensa anche all'aldilà, in quel momento ci sono persone che pensano ai propri interessi. Quindi più che badare alla salute del proprio caro, si bada ai patrimoni dei propri cari, ai redditi dei propri cari. Ecco che poi si avvicinano spesso in alcune famiglie. Purtroppo, devo dire, è come in questo caso, che mi è stato proposto, ho capito che alcuni figli vogliono avvicinarsi ai genitori, purtroppo perché ci sono dei beni che potrebbero cadere in successione. Attenzione, questo è grave, perché il principio che bisogna tenere conto e che il giudice tutelare riconosce questo amministratore a un beneficiario, ma purché questo badi non ad un guadagno, cioè questa persona deve indicare un reddiconto annuale e deve specificare tutte le spese, tutte le uscite e le relative entrate. Quindi è un compito anche importante e che viene vigilato dal giudice tutelare, perché, ricordiamo, questo ricorso va presentato alla volontaria giurisdizione, cioè al giudice tutelare. Non è una causa contenziosa, ma è una causa in cui vengono in gioco degli interessi di carattere familiare. Poi un'altra notazione importante, potete rivolgervi a professionisti che forniscono il gratuito patrocinio e in questo modo potete evitare di pagare gli onorari e le competenze di lite. Bene, dicevamo degli usi civici, cosa sono, dove si inseriscono questi elementi giuridici che talvolta pesano, soprattutto nei contratti. Avvocato, cosa ci può dire al riguardo? Grazie per la domanda che mi è stata posta sugli usi civici. Gli usi civici sono un peso che grava su un terreno ed è un peso che ha un'origine di carattere medievale. Cioè, ci sono terreni che, in lo tempore, sono stati, ad esempio, occupati da cittadini e nel tempo questa situazione si è, come dire, stratificata. È successo spesso nell'Italia meridionale dove c'era la presenza di un demanio imperiale. Faccio un esempio. Proprio nel Gargano, qui a San Giovanni Rotondo, c'erano dei terreni che riguardavano alcune zone cittadine vicine che erano di demanio imperiale. Pian piano sono state occupate per ovvie necessità. Si sa, l'agricoltura e la pastorizia all'epoca era l'attività preeminente e quindi a distanza di secoli ancora adesso sulle visure catastali risultano questi usi civici che sono dei pesi che, diciamo così, limitano il diritto di proprietà. Sulle visure catastali può succedere che gli usi civici vengano diciamo celati dietro un'altra dicitura, quella di enfiteusi. Quindi può essere scritto comune concedente, comune di San Giovanni Rotondo e infiteuta tal dei tali. Perché mi voglio occupare degli usi civici? Ma ritorneremo. Perché si è rivolto a me un cittadino di San Giovanni Rotondo che aveva praticamente pagato circa 83 mila euro come caparra confirmatore per l'acquisto di un bene in una zona di lottizzazione privata. Ha poi scoperto che su quelle particelle c'era un uso civico o usi civici cioè erano gravate da questo vincolo. Tramite un collega ha agito anche dietro nostra indicazione dinanzi al tribunale di Foggia e poi successivamente anche dinanzi alla corte di appello di Bari perché voleva la restituzione della caparra confirmatoria. In altre parole se mi viene venduta una cosa che non è in piena proprietà io voglio che mi venga restituito il doppio della caparra. questa è una domanda di recesso non di restituzione della caparra ma di restituzione del doppio della caparra. Come è andata a finire questa causa? Io ho questa interessante sentenza ebbene questo signore che si è rivolto a me ha avuto ragione in primo grado gli erano stati restituiti solo le 83 mila euro in secondo grado gli sono stati restituiti più di 160 mila euro quindi più del doppio perché il giudice ha riconosciuto che la presenza degli usi civici limite il diritto di proprietà quindi massima attenzione quando dovete acquistare un bene oltre al certificato di destinazione urbanistica andate a verificare se è gravato da usi civici in questo caso l'ente competente a rilasciare questa attestazione è il comune oppure nel caso per esempio della Puglia il commissariato per gli usi civici anche detto ufficio per gli usi civici bisogna quindi vedere caso per caso regione per regione però vi ricordo attenzione che spesso quello che appare in un atto un atto pubblico come un atto notario non è la pura e semplice verità si possono celare dei pesi dei vincoli che in un primo momento non appaiono l'uso civico è per esempio un caso di vincolo giuridico che rende il terreno come dire con un peso sulla sua stessa valutazione che non può apparire ad un primo acchitto nella prossima puntata entreremo nello specifico parleremo dell'uso civico della sua genesi e anche dell'evoluzione legislativa perché lo anticipo da pochi anni a questa parte c'è stata una sorta di legittimazione noi parliamo della Puglia degli usi civici quindi c'è stata la legittimazione o affrancazione degli usi civici è un argomento complesso però tenteremo con delle pillole pratiche di spiegarlo anche ai non addetti ai lavori vi ringrazio e vi rimando a una prossima puntata con Difesa Salute la prima parte di Chiedi a Noi termina qui torneremo insieme nella seconda parte per trattare i temi relativi al fisco all'economia e alla famiglia con il dottor Massimiliano Casto intanto vedete in sovraimpressione i contatti per porre le vostre domande alla nostra redazione carissimi amici di Padre Pio TV bentornati all'appuntamento settimanale dedicato al fisco nelle scorse puntate abbiamo parlato ampiamente delle tasse sulla casa abbiamo affrontato l'argomento della tassa rifiuti del Limo e della Tasi e in questa puntata parleremo dell'IPF e in particolare di tutto quello che può essere detratto dalla nostra dichiarazione del Red quindi potrebbe essere il modello 730 potrebbe essere anche il modello unico e quindi parleremo di oneri deducibili ma anche di oneri detraibili bene sapete che in linea generale ci sono delle spese per cui il fisco ci consente di ottenere degli sconti dalle tasse quindi oppure eventualmente anche un rimborso fiscale appunto derivato dal modello 730 dall'elaborazione della nostra dichiarazione di red soprattutto indicata per quanto riguarda tutti i dipendenti ma anche i pensionati per quanto riguarda la distinzione tra oneri deducibili e oneri detraibili è abbastanza consistente perché tutti gli oneri deducibili sono quelli che possono essere detratti direttamente dall'importo del reddito imponibile quello su cui poi andranno a calcolare le tasse invece gli oneri detraibili sono quelli che direttamente vengono tolti dall'importo delle tasse che dobbiamo andare a pagare normalmente sono nella misura del 19% per quanto riguarda le spese che vengono sostenute per cui si ha diritto ad un rimborso d'imposto oppure un notevole sconto dalle nostre tasse in particolare dall'IRPF queste si utilizzano attraverso un criterio di cassa nel senso che devono essere pagate quindi devono essere sostenute nel periodo compreso per cui si presenta la dichiarazione dei redditi quindi parliamo del periodo dal primo dicembre fino al 31 dicembre anche se poi ovviamente presentiamo la dichiarazione dei redditi l'anno successivo ovviamente essendo effettuato un calcolo con il criterio di cassa devono essere effettuate nel periodo che si prende a base di riferimento per quanto riguarda invece tutte le spese che appunto devono essere documentate al fine di ottenere questo famoso sconto e quindi parliamo di oni deducibili ma anche di spese detraibili ovviamente devono essere delle pezze giustificative della spesa che abbiamo sostenuto quindi parliamo di fatture di ricevute di inquetanze e ovviamente se parliamo per esempio di una spesa di uno specialista quindi dal punto di vista sanitario ci deve essere la parte d'aiva ovviamente la denominazione del lento del professionista che ci rilascia la fattura e ovviamente anche la parte d'aiva naturalmente queste spese devono essere sempre conservate in originale per tutto il periodo per cui l'agenzia delle entrate quindi il fisco può fare dei controlli perché da qualche anno già non visto che va fatto tutto telematicamente sia per quanto riguarda il modello 730 sia per quanto riguarda il modello unico ovviamente non va allegato nulla però abbiamo l'obbligo di conservare questa spesa queste fatture queste ricevute con tutta la documentazione appunto che dà diritto a questo sconto di imposta per tutto il periodo per cui l'agenzia delle entrate potrebbe effettuare dei controlli quindi si parla dei 5 anni successivi a quelli di presentazione della dichiarazione dei reddi per quanto riguarda l'ultima dichiarazione dei reddi quindi il modello 730 che si è presentato nel 2019 riferito ai reddi del 2018 ci sono state notevoli novità per quanto riguarda appunto queste spese e per cui si è ottenuto uno sconto del 19% su quello che abbiamo sostenuto in particolare ricordiamo l'abbonamento al trasporto pubblico questa era una spesa che in passato era già contemplata tra le zone deducibili poi era stata tolta da alcuni governi lo scorso anno è stata ripristinata e quindi per un limite massimo della spesa sostenuta per l'abbonamento ai servizi di pubblico trasporto è possibile detrarre il 19% della spesa che appunto abbiamo sostenuto ovviamente anche per quanto riguarda l'anno 2019 è possibile detrarla nella dichiarazione che presenteremo nel 2020 un'altra novità che già era contemplata nella scorsa dichiarazione dei reddi era il famoso bonus verde che spetta appunto per tutti gli interventi per chi realizza uno spazio verde un giardino all'interno del proprio condominio oppure all'interno della propria abitazione e quindi la realizzazione di uno spazio verde di un'area verde è da diritto ad uno sconto di imposta sulla spesa che abbiamo sostenuto nella misura sempre del 19% poi per quanto riguarda un'altra novità riguarda il fatto che un contribuente stipoli una polizia di assicurazione per quanto riguarda gli eventi calamitose allora anche in questi casi è possibile usufruire della detrazione del 19% adesso passiamo invece ad un elenco dettagliato per quanto riguarda tutte le spese che appunto danno diritto ad uno sconto dell'imposta quindi parliamo di detrazioni fiscali ovviamente sapete che per eccellenza la spesa che dà diritto ad un rimborso è la spesa sanitaria quindi tutte le spese per quanto riguarda quelle che effettuiamo nella farmacia oppure per le prestazioni che vengono resti dal vendista o da chiunque specialista nell'ambito sanitario è possibile recuperare il 19% ovviamente dobbiamo avere la ricevuta o la fattura che ci lascia il professionista però a condizione che dobbiamo detrarre il 19% della somma che supera la somma di 129,11 euro che viene appunto chiamata franguigia quindi il 19% è soltanto per la parte eccedente questa franguigia di 129,11 euro quindi tutte le spese mediche che tra l'altro potrebbero essere anche spese sanitarie riguardanti delle persone con disabilità anche queste rientrano tra le spese per cui è possibile ottenere una riduzione di imposta ovviamente anche per quanto riguarda tutti gli acquisti di cani guida è possibile ottenere anche questo rimborso di imposta e poi un'altra spesa per eccellenza contattata tra le detrazioni fiscali è per chi paga gli interessi passivi per chi ha contratto un mutuo per l'acquisto di prima casa per tutti gli interessi passivi fino a un tetto massimo di 4.000 euro è possibile recuperare il 19% all'interno della nostra dichiarazione di reti quindi nella dichiarazione di reti potremmo ottenere o una riduzione delle tasse oppure addirittura ottenere un rimborso da parte dell'agenzia delle entrate ricordiamo che per quanto riguarda il modello 730 questo rimborso deve essere anticipato dal datore di lavoro che può essere il datore di lavoro appunto per quanto riguarda tutti i dipendenti ma può essere anche l'ente pensionistico per quanto riguarda tutti i pensionati questo rimborso poi avverrà in busta paga per quanto riguarda tutti i dipendenti nella mensità di agosto o di settembre per quanto riguarda i pensionati questo rimborso avverrà nella pensione direttamente nella pensione che verrà erogata nel mese di agosto o di settembre dell'anno successivo a quella per cui abbiamo presentato la dichiarazione di reti poi per quanto riguarda tutte le spese sostenute per quanto riguarda il pagamento dell'affitto anche in questo caso già dallo scorso anno è possibile ottenere una riduzione dell'imposta qui è importante entrare nel dettaglio di queste spese perché bisogna fare delle distinzioni per esempio per chi ha una spese per quanto riguarda un contratto di affitto per un immobile destinato a prima casa allora bisogna fare attenzione che il rimborso è nella misura di 300 euro per quanto riguarda il reddito inferiore a 15.493 se invece questo reddito è superiore a questo limite di 15.493 ma comunque è inferiore a 30.987 allora questo rimborso di imposta per quanto riguarda il canale di affitto che viene pagato per l'abitazione principale ammonta soltanto a 150 euro ancora c'è un'altra distinzione per quanto riguarda le spese per detrazioni fiscali per i contratti di affitto per chi infatti ha quindi paga un affitto ma è stato registrato un contratto con la famosa cedolare secca allora anche qui ci sono dei parametri diversi infatti per chi ha un reddito inferiore a 15.493 virgola 71 allora l'importo da poter detrarre è di 495 euro virgola 80 per chi invece ha un reddito superiore a questi 12.493 ma comunque inferiori a 30.937 allora anche in questo caso l'importo che è possibile detrarre si riduce notevolmente è comunque per un ammontare complessivo di 247 euro virgola 90 è sempre comunque un piccolo un piccolo rimborso che si ha diritto quando c'è questo caro di locazione pagato per l'affitto dell'abitazione principale un'altra ancora distinzione che è importante evidenziare per i nostri amici a casa e per tutti quei giovani che hanno comunque un contratto di affitto però abbiano un'età compresa tra 20 e 30 anni e comunque abbiano un reddito inferiore a quei famosi 15.493 virgola 71 allora è possibile ottenere uno sconto addirittura un rimborso che è pari a 991 virgola 60 discorso ancora diverso per tutti quei lavoratori che sono fuori sede però che hanno cambiato residenza allora se questo limite è sempre inferiore al limite stabilito dal fisco quindi 15.493 il rimborso che si può ottenere ammonta fino a un limite massimo di 991 euro virgola 60 se questo reddito è superiore a 15.493 ma comunque inferiore a 30.927 allora questo rimborso per ricordiamo tutti quei laboratori fuori sede che hanno cambiato residenza allora questo rimborso è di 495 euro virgola 80 un per quanto riguarda ancora questi contratti di locazione registrati ovviamente all'agenzia delle entrate è importante evidenziare che per tutti quei studenti che sono costretti a studiare fuori sede o almeno 100 km distanti dall'abitazione in cui vivono allora hanno diritto ad un rimborso nella misura del 19% per un entro limite massimo di 2633 euro questo ovviamente è un grande aggettivo per tutte quelle famiglie che pagano l'affitto per i ragazzi per gli studenti e quindi che hanno lo studio quindi l'università distante oltre 100 km dal luogo di residenza allora quando il contratto è registrato c'è questo limite del 19% sulla spesa di 2633 euro ovviamente il contratto deve essere regolarmente registrato continuando tra le spese che appunto sono detrazioni fiscali quindi che danno diritto ad uno sconto di posto oppure addirittura ad un rimborso è importante ricordare che per quanto riguarda tutte le spese che vengono erogate per l'assistenza personale di anziani oppure comunque di persone affette da disabilità anche in questo caso le spese sostenute ovviamente devono essere opportunamente documentate danno diritto anche questa ad un rimborso del 19% quindi ricordiamoci di conservare sempre le fatture e le ricevute quando sosteniamo queste spese poi ancora il fisco ci dà la possibilità di ottenere sempre il 19% quando affrontiamo delle spese per tutte le attività sportive dei nostri figli quindi nella misura massima di 210 euro è possibile anche in questo caso ottenere un riborso del 19% ancora quando ci sono dei bambini che hanno un'età compresa tra i tre mesi e i tre anni e questi bambini frequentano l'asilo nido quindi viene pagata una retta è possibile detrarre il 19% fino a un limite massimo di 632 euro per ogni bimbo quindi questo è importante ricordiamoci anche per quanto riguarda la frequenza di questi asili per cui è possibile ottenere lo sconto del 19% perché deve essere un'età compresa tra i tre mesi e i tre anni bene per questa settimana tutta noi vediamo l'appuntamento della prossima settimana io volevo ricordare a tutti gli amici a casa che se avete dei dubbi dei quesiti da porre noi siamo felici di rispondere a tutti quindi potete scrivere alla mail in sovraimpressione noi risponderemo a tutti gli amici che ci chiedono notizie o informazioni in materia di fisco grazie alla prossima settimana grazie